Allora, la fiducia nelle relazioni sicuramente non è il massimo della vita, no? Riuscire a fidarsi come si vorrebbe. Questo significa che molto spesso si pensa che la fiducia debba essere in qualche modo data e ovviamente data in cambio di qualcosa. Secondo me no, cioè secondo me si entra in relazione a prescindere, senza pensare di dover vedere lui che si guadagna la tua fiducia, eccetera. Cioè nel senso, la fiducia è importante perché ti consente di vivere un rapporto sano e felice. Se tu non hai fiducia, se non c'è fiducia nel rapporto sentimentale, sarà molto difficile riuscire a creare qualcosa di interessante. E ci sono diversi modi ovviamente in cui la fiducia può essere danneggiata in una relazione o comunque in un rapporto. Ci sono ovviamente situazioni come le bugie, chiaramente le menzogne, che puoi utilizzare a fin di bene, no? Le famose menzogne bianche. E poi c'è il tradimento, quindi situazioni dove il tradimento chiaramente può ledere la fiducia, se non al 110% vale la fiducia e chiaramente in quel contesto poi dovresti fidarti a prescindere se perdoni un tradimento del tuo ragazzo. Cosa molto difficile, no? Le persone pensano di poter perdonare un tradimento. In realtà no, cioè nella gran parte dei casi non puoi. Quindi se sei stata tradita, se c'è una situazione che stai vivendo adesso dove sei stata tradita, secondo me il tradimento non lo puoi perdonare. È molto difficile, a meno che non hai delle perversioni di un certo grado. Però secondo me non hai la possibilità di perdonare un tradimento. E ancora la mancanza di rispetto. Quando si presenta la mancanza di rispetto, quindi ti fa perdere fiducia, vuoi assolutamente far capire all'altra persona dov'è che è mancata di rispetto subito, dove c'è stata la mancanza di rispetto nell'immediato. Perché se no poi diventa un casino, nel senso non si riesce a fare poi quello che si deve fare. Cioè non si riesce ad avere una situazione dove lui smette di fare quell'atteggiamento, smette di avere quell'atteggiamento appunto non premiante, quindi danneggiante. E glielo devi dire, insomma, lo devi comunicare. La mancanza di rispetto è importante che insomma tu comunichi questo. Andando avanti, sicuramente come strategia per mantenere la fiducia, quindi iniziare a creare qualcosa di interessante in una relazione, dovresti in primis mantenere le promesse. Quindi far sì che ci sia un matching, quindi un match tra quello che tu ovviamente dici di fare e fai, salvo casi o situazioni dove applichi una tecnica di seduzione, strategie tossiche, che comunque puoi anche applicare, ma senza esagerare. Stessa cosa vale per lui. Deve dire di voler fare alcune cose e poi chiaramente le deve fare senza problemi. Quindi si deve, tra virgolette, poi aprire in modo onesto nei tuoi confronti e rispettare questo tipo di accordi. Ancora c'è l'affidabilità, che comunque si rifà a questa cosa che ti ho appena detto, quindi affidabilità sarà un'affidabilità che ovviamente prevede il rispetto di quelle che sono le promesse. Se io ti prometto che farò X, quindi tu farai X o continui così. E quando lo faccio si vede che lo faccio. Nel senso, voglio rendere molto semplice spiccia. Dice e fa quello che dice di fare. Punto. Ancora, mostrare supporto per il partner. Per, tra virgolette, costruire una buona fiducia, deve esserci un supporto, un cheerleading, io lo chiamo. Cioè fare il fan, quindi esultare per l'altra persona, essere contento per l'altra persona, piuttosto che invece scoraggiarla. Anche qua, scoraggiare un'altra persona, scoraggiare il partner, può funzionare come tecnica di esituzione tossica, ma sul lunghissimo termine non è funzionale. Cioè nel senso, va bene, lo puoi fare, ma con il passare degli anni è qualcosa che deve essere quasi onnipresente. Il supporto e il, tra virgolette, cheering, quindi il festeggiare per i risultati dell'altro, essere contento per quello che ha fatto, piuttosto che invece di no, ma dove vai, ma cosa fai? Che comunque è una strategia tossica di seduzione che puoi utilizzare. Ma se abusi, distruggi il rapporto, quindi attenzione. Quindi, allora, se ci sono dei conflitti, quindi se per esempio volete, tra virgolette, aumentare la fiducia che c'è fra di voi, dei conflitti dovrebbero essere, secondo me, argomentati in modo, come dire, diretto, specialmente per te che sei una ragazza e guardi questo video probabilmente, diretta nei confronti del tuo ragazzo, quindi è una comunicazione diretta. Quindi dirgli quali sono i tuoi problemi e ripeterglielo più volte durante le settimane, quindi una, due settimane, ripeterglielo addirittura quasi una volta ogni due giorni, così poi da chiarire finché non si è veramente chiarito, perché gli uomini hanno bisogno di una ripetizione continua a livello di comunicazione. Ora, capire anche che c'è bisogno di tempo per costruire la fiducia è che al contempo può essere gratificante, ok? Quindi non ti devi arrendere dal volo del costo di fiducia, devi stare tranquilla, devi continuare imperterrita. Dunque è importante che tu fai, no? Una donna, quindi che aggiungi a questa, aggiungi insomma, tra virgolette, atteggiamenti sempre più marcanti, si può dire così, o sempre più collimanti nel tuo rapporto che appunto collimano con quello che dici e quello che fai. Perché più io vedo che quello che dici e fai è vero, quindi non c'è un mismatch, quindi è veramente così, collima, quello che dici, collima, con quello che fai, più io tendo a fidarmi, persona normale. Poi, se voi fate questo e lui continua a non fidarsi, continua a essere invidioso, continua a dirti che non devi fare alcune cose perché ha paura di perderti, eccetera, quello è un rapporto tossico. Quindi lì la differenza sarà tutt'altra e si parla letteralmente di altre cose. Quindi individua anche quanto stai facendo, cioè non fare un biasimo solo su di lui, è solo colpa sua. No, fai un biasimo anche su di te. Nel senso, quanto sto facendo io per far sì che lui possa fidarmi di me? Sto facendo abbastanza? Se la risposta è sì, ok, allora il problema è lui, allora posso davvero mettere il biasimo su di lui. L'importante è che tu fai il massimo per far sì che la fiducia aumenti e che non ci sia quella gelosia, quella possessività. Grazie. 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 Grazie.